Salve, mi dà le cartine? 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 Le sembra un ufficio del turismo questo? Con Ralfaizen scopri la Svizzera a metà prezzo. Va per la valle di Mungio? Sempre dritto. Va bene. 1975. Una straordinaria nave. Mi dia un biglietto. Un biglietto per cosa? Con Ralfaizen biglietti a metà prezzo per partecipare a concerti ed eventi in tutta la Svizzera. Salve. Salve. Vi dia una giornaliera. Giornaliera? Uno schipazzo. Le sembra una stazione sciistica questa? Con Ralfaizen potete sciare nei più bei comprensori sciistici a metà prezzo. Ha del burro cacao? No. Salve. Non so se l'ha notato ma ci sarebbe una fila da rispettare. Guardi, devo rinnovare il mio abbonamento arcobaleno. Arcobaleno? No ma dico, le sembra di stare in una biglietteria qua? Con Ralfaizen potete vincere sconti fino a 500 franchi per l'abbonamento arcobaleno. E poi, devo rinnovare il mio abbonamento arcobaleno. Lo so se l'ha notato ma ci sarebbe una nuova.